Arrivano i primi tamponi rapidi all'ospedale di Polistena. Grazie ai fondi della campagna Sosteniamoci e grazie all'impegno dell'amministrazione comunale sono stati donati 500 tamponi con risultato immediato. Un importante risultato che si è raggiunto dando dimostrazione ancora una volta che se si amministra bene a tutela della salute dei cittadini si possono raggiungere grandi obiettivi in tempi brevi. Con i tamponi rapidi già dentro gli ospedali avrebbero potuto evitare i contagi nelle strutture sanitarie avvenute o proprio in questi giorni mettendo prima in sicurezza sia le persone in attesa di ricovero sia gli operatori stessi. Con questi tamponi già disponibili sarà possibile compiere screening rapidi sia su chi ne ha bisogno che sia sul personale di interi reparti in modo tale da mappare velocemente i contatti stretti e le persone contagiate sottoponendoli all'immediata quarantena senza pregiudicare la funzionalità dei servizi.